Alessio Alessio Perché? Perché non abbiamo rapporto Come mai Alessio non vi parlate? Giuseppe è uno che come te è un grande coinvolgitore, no? Sì, io ho detto molto onestamente, con Giuseppe non ho nulla Anche perché poi è molto amico di Anita, quindi io penso che lui abbia un po' sofferto il mio avvicinamento ad Anita Credo che non ci sia nulla di male, credo che sia una cosa bellissima Che secondo me non ha gestito benissimo perché Gestito bene? No, questo è il mio pensiero Ha gestito bene cosa? No, perché si è notato, ecco io l'ho notato in sofferenza nei miei confronti Cioè questo allontanamento negli ultimi giorni, soprattutto dopo la suite, per dirti la verità Cioè siamo un po' ingelosito No, questa è la mia percezione No, no, no Quindi non lo sto accusando di nulla Cioè siamo liberi, lui è libero di nominarvi, l'accetto va benissimo Siamo in casa, non penso che condividiamo comunque tanto tempo Non mi sono staccato da te No, infatti io penso che parlavamo di più all'inizio rispetto adesso, fine Vabbè, no, parli poco con tutti relativamente tranne con Poli Comunque ti sei abbastanza rinchiuso anche tu nei confronti degli altri Sì, però con gli altri io ci parlo, pure se non ti sembra ci parlo Sì, non dico che no, però rispetto all'inizio comunque sì Prima andavi, facevi un po', giocavi con tutti No, adesso gioco di meno con tutti, con te non gioco Grazie